Un corso che ci ha permesso di riconoscere le potenzialità di internet. È importante per il fisiatra poter utilizzare questi sistemi perché viene valorizzata in questo modo anche la figura del fisiatra. Bellissima esperienza che ci ha dato altri strumenti per poter lavorare ancora meglio come fisiatri, anche per farci conoscere alle persone con disabilità. Una giornata diversa, passata in compagnia di colleghi, abbiamo imparato più di quello che forse avevamo imparato in tanti anni. Ci servirà per fare la professione un po' meglio, anche noi che abbiamo capelli bianchi. Grazie Eugenio, il corso è stato interessantissimo in questo mondo che è sempre più piccolo perché è sempre più globale. Dobbiamo essere tutti connessi e quindi tutte le strategie di comunicazione sono importanti anche per far conoscere la nostra professione di fisiatri nel mondo. Grazie a tutti.